Ciao a tutti, ciao allo staff Big One e grazie a Big One per il servizio e per il sostenimento che stanno facendo. Nel periodo 2019 qualcosa l'abbiamo già fatta come l'Europei Master, il prossimo obiettivo il 6 ottobre sarò a Trento per provare a correre una mezza forte, l'obiettivo principale sarebbe il 20 ottobre a Palermo per il campionato italiano assoluto di mezza maratona in cui ci proverò a fare un tempo a mare e si riesco a andare sul sottorecord del mondo della categoria. E poi direttamente a Venezia in cui ci proverò, l'ho già promesso di provare a sentire sotto i 2,19, è un po' difficile però probabilmente ci riesco. Eraclea è andata per poco, quindi per poco ci è mancato il record del mondo del 5.000, la pista purtroppo era nuova, quindi balzavo, non riuscivo a spingere, non è quello il fatto che finché sono vicino credo che ci riesco ancora a provare, riproverò su una gara assoluta. Mi è piaciuto molto Eraclea perché mi sentivo bene, mi trovo bene, quindi ho provato a spingere, avevo sentito nelle gambe che sono delle riserve, che mi dà fiducia e quindi essere 7 secondi sono una prestazione che è veramente tirata per una categoria non è da giovane e quindi stiamo lavorando su, stiamo correndo sui tempi a livello del mondo, di categorie in cui saranno pochi, però i record del mondo sono fatti per battere e se non ci sono io saranno altro, intanto io ci provo sempre. Grazie a tutti.